Buonasera, ben ritrovati finalmente amici della faccia del tifoso, siamo ritornati da Salerno, anzi da Lecce, buon anno e auguri a tutti, è ritornato il vostro commendatore e è ritornata la Sennitana, prima vittoria in questo 2023, 2-1 a Lecce, ecco qua, bella vittoria sofferta, subito in vantaggio al primo minuto, i primi minuti con Dian, poi abbiamo raddoppiato e poi Lecce è ritornato, ha segnato, ha fatto il 2-1, però, insomma, non è stato mai molto pericoloso, perlomeno non ha dato mai l'impressione di poterla pareggiare questa partita. E niente, finalmente dopo tanta bucasca è tornata alla vittoria la Sennitana, un bel gruppo, una squadra che è sembrata subito diversa da quelle che abbiamo visto dall'inizio dell'anno, anche sul finire dell'anno, una squadra compatta, una squadra grintosa, bene i nuovi innesti, Trost e Kong, bel difensore, bene Cernicoi nel secondo tempo che è entrato, ma soprattutto un bel atteggiamento da parte della squadra, non l'abbiamo, non dico mai vista così, perché all'inizio del campionato avevamo fatto delle belle peste al su, ma erano un paio di mesi, mondiali compresi, che non vedevamo questa salentità, e forse stavano aspettando che tornava il loro commentatore. Ragazzi, va bene così, ci concediamo da Lecce, ancora un'altra inquadratura dello stadio, qua pare che finalmente ci vogliono far uscire. Un saluto a tutti e spero che sia di buon auspicio questa partita, anche per i miei commenti futuri. Un saluto a tutti.